Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Gianni Jean. Cara sorella e caro fratello l'ascolto, spero che stamattina quando ti sei alzato o alzata tu abbia potuto aprire la finestra e cogliere il senso del dono di questa nuova giornata che il Signore ti vuole dare. Anch'io ho aperto la finestra e le persiane e mi sono reso conto con un pizzico di stupore che il sole era sorto una volta ancora e in tutto questo c'è qualcosa di straordinario e di immeritato. Vogliamo chiedere al Signore di accompagnarci durante questo culto. Il nostro aiuto, la nostra speranza, la nostra forza e il nostro avvenire sono nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo nostro unico Signore. Amen. Il salmista dice anima mia benedici il Signore e tutto ciò che è in me benedica il suo nome santo. Anima mia benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei Suoi benefici. Ecco Dio nostro per il mattino e per la sera, per il giorno e per la notte che ci offri, per il colore e per il soffio della vita, noi vogliamo benedire il Tuo nome. Per i semi dell'Evangelo che sei venuto a piantare nei nostri cuori, per il Tuo soffio di vita che ha dato vita alla polvere, vogliamo benedire il Tuo nome, Signore nostro. Per il mare e per le isole, per le montagne, per il deserto, per la Tua parola nei nostri momenti di esilio, vogliamo benedire il Tuo nome. Anima mia benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei Suoi benefici. Amen. Siamo figli di un solo riscatto, d'amore un medesimo patto, di fede, di spere, di fede, di fede, di fede. Per questo terzo momento di riflessione che vogliamo vivere insieme, questo terzo momento di culto, ho scelto un altro testo dal Vangelo di Marco, al capitolo 9, i versetti da 14 a 29. Quando giunsero i discepoli, videro intorno a loro una grande folla e degli scribi che discutevano con loro e subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo e domandò «Ma di che cosa discutete con loro?» Uno della folla gli rispose «Maestro, io ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere per terra e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero ma non hanno potuto». E Gesù disse loro «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me!» Glielo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando e Gesù domandò al Padre «Da quanto tempo gli avviene questo?» Egli disse «Dalla sua infanzia» e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire «Ma tu se puoi fare qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù disse «Tu dici se puoi?» «Ogni cosa è possibile a chi crede!» E subito il padre del bambino esclamò «Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità!» E Gesù vedendo che la folla correva sgridò lo spirito immondo dicendogli «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più!» E lo spirito gridando e straziandolo forte uscì e il bambino rimase come morto e quasi tutti, quasi tutti dicevano «È morto!» Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi e quando Gesù fu entrato in casa i suoi discepoli gli domandarono in privato «Ma perché?» «Noi non abbiamo potuto scacciarlo, questo spirito!» Egli disse loro «Questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera!» Cara sorella e caro fratello all'ascolto, ogni domenica noi cerchiamo di comprendere qual è la parola dell'Evangelo, la parola della grazia nel testo che noi leggiamo, che siamo chiamati a leggere o ad ascoltare cioè cerchiamo ogni volta di vivere l'esperienza che ha vissuto per esempio Lutero l'esperienza della torre lui era una persona tormentata vi era un travaglio spirituale ed esistenziale spaventoso insomma e poi improvvisamente un giorno capì che Dio lo aveva accolto lo amava così com'era e che la sua parola di accoglienza e di perdono era più forte di tutti i suoi sensi di colpa noi siamo qui davanti ad un testo che forse è una delle parole è un testo molto vicino alla nostra generazione e in particolare è la parola del padre che rimane stupefatto senza parole davvero afasico davanti a ciò che Gesù fa ed è la parola io credo Signore viene in soccorso alla mia incredulità credo che ognuno di noi nel corso della propria vita viva un travaglio profondo nella alla ricerca della dimensione della fede che è sempre intrisa che sempre si intreccia con l'incredulità e la confessione di questo padre è probabilmente una delle più belle confessioni di fede dove viene detta anche dove viene riconosciuta anche l'incredulità vi è sempre la fede e vi è sempre al tempo stesso l'incredulità negli anni molti anni fa ormai quasi 50 anni fa quando ero alla facoltà di teologia mi soffermai a lungo su una parola dell'apostolo Paolo dove l'apostolo dice dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata il peccato sono le nostre contraddizioni il peccato è la distanza che avverto e che esiste sempre fra me e gli altri fra me e Dio e fra me e me stesso perché anch'io vorrei essere qualcosa di diverso da quello che sono il peccato è questo abisso è questo spazio che non riusciamo mai a colmare fra ciò che vorremmo fare ciò che vorremmo essere e ciò che in realtà siamo e ho compreso forse faticosamente ho compreso che quando l'apostolo Paolo parla di giustificazione per grazia ti parlavo prima dell'esperienza di Lutero ebbene parla della giustificazione del peccatore ma parla anche della giustificazione del dubbioso il dubbioso colui che ha timore ha timore di poter affermare pienamente la sua fede in Dio questo padre malgrado gli anni che ha trascorso nel riflettere sulla malattia di suo figlio sul travaglio che stava vivendo attraverso anche la preghiera questo padre dice a Gesù la sua fiducia e al tempo stesso la propria fragilità la propria debolezza qui siamo di fronte ad un ad un episodio di esorcismo vero e proprio ed è forse per questo che è la parola biblica o una delle parole bibliche che io avverto più vicino a me perché la fede anche nella mia vita anche nel mio percorso di fede e di vita è sempre stata intrecciata al dubbio e all'incredulità che cos'è la fede in questo testo perché qui viene detto che i discepoli non riescono a fare nulla rispetto alla malattia di questo ragazzino i discepoli non riescono a guarire questo bambino abitato posseduto da uno spirito da uno spirito muto perché qualcuno di noi potrebbe dire perché non hanno abbastanza fede ed è quello che sovente pensiamo tutti se avessi più fede sarei riuscito a superare momenti di difficoltà sarei riuscito ad aiutare altri a superare i loro momenti di grave dolore e difficoltà io invece qui credo che sia qualcosa di diverso i discepoli i discepoli non hanno ancora compreso che cosa sia la fede i discepoli forse hanno creduto troppo e troppo a lungo sulla loro possibilità sul fatto che la fede sia un loro possesso e che loro potessero intervenire nella vita propria e nella vita altrui la fede è invece la nostra resa davanti al Signore Dietrich Bonhoeffer diceva molto bene fede è rinunziare del tutto a fare qualcosa di te stesso un santo un peccatore convertito un uomo di chiesa un giusto un ingiusto un malato o un sano solo allora quando hai rinunziato a tutto questo ci si getta interamente nelle braccia di Dio ecco vedi dunque la fede non è il pensare di avere qualcosa o di avere qualcosa di più degli altri o di avere qualcosa che tu puoi aumentare con il tempo la fede è il riconoscere la tua carenza che ti manca qualcosa ed è proprio per questo ed è solo allora che ti puoi affidare al Signore Gesù la fede non è avere non è possedere non è compiere la fede è soltanto e sempre ricevere quando davanti a Dio riconosci la tua mancanza di fiducia allora ti affidi a Lui Lutero lo sapeva e lo insegnava se vuoi accogliere il suo suggerimento puoi credere puoi sperare di comprendere qualcosa qualche frammento della dimensione della fede solo dopo esserti messo all'ascolto ed aver aperto pienamente le tue mani Lutero Morente le parole ultime di Lutero Morente sono estremamente chiari siamo tutti dei mendicanti in molti momenti della mia vita in molte circostanze quando attraverso le corsie d'ospedale o quando incontro delle persone in difficoltà ammalate depresse che vivono un senso profondo di fallimento di disperazione di solitudine mi sono reso conto di quanto ero incapace a fare alcunché e cerco in quei momenti cerco almeno di riconoscere che appunto non posso fare nulla lo riconosco anche davanti alle persone che incontro e l'unica cosa che riesco a fare è dire loro ci mettiamo in preghiera insieme proviamo a riconoscere la nostra incapacità per permettere al Signore di prendere in mano le nostre esistenze le esistenze delle persone che tu ami e che ti stanno a cuore e che attraversano difficoltà e proviamo a lasciare che sia Lui a cambiare a cambiare il percorso delle nostre vite a trasformarle in quei momenti la preghiera è autentica perché la preghiera è l'unica cosa come dice Gesù che dà sbocco ad una fede che è anche sempre incredulità la preghiera vera che non sempre neppure oso pronunziare perché me ne vergogno io mi vergogno della mia incapacità della debolezza della mia fede la preghiera vera è quella in cui riconosco davvero il mio essere inadeguato davanti al Signore è lì che nasce la fede perché è lì che ti senti finalmente accolto è lì che lasci che Gesù ti prenda per mano è lì che ti senti perdonato che ti senti in pace è lì che sei finalmente guarito perché tutti abbiamo bisogno di essere guariti è lì che ti senti finalmente libero e libera Amen andiamo vivno di giubbio come gli angeli a vedere per esaltare il suo cuore che ci guida verso il cielo si è spenduti qua giù la paura c'è stata una luce dove questa pace ama ma tu sei la via la verità la vita e la santità signor Gesù torna come un giorno di luminità per la cilumine e la cilumine e la sola e la verità si è spenduti qua giù la paura c'è stata una luce dove questa pace va ma tu sei la via la verità la vita e la santità la nostra vita che invece sentiam come in agia al centro e l'or e l'arco e l'hier e l'amonia perché cura la pazia ognò si è spenduti qua giù la paura non c'è stata una luce dove questa pace va ma tu sei la via la verità la vita e la santità vogliamo avviarci a concludere il nostro culto con la preghiera e poi con la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato Signore Dio nostro io riconosco riconosco di credere e riconosco al tempo stesso la mia incredulità queste due dimensioni sono inestricabili ma lascio a te voglio lasciare a te vogliamo lasciare a te la guida delle nostre vite vogliamo accettare la tua volontà so che tu solleverai il nostro spirito quando sarà oppresso da gravi pensieri riconosciamo in molti momenti il vuoto che è in noi e ti chiediamo di parlarci ancora ti chiediamo di aiutarci a comprendere che tu ci prenderai ancora per mano e ci guarirai vogliamo restare con te signore nostro non ti vogliamo abbandonare vogliamo rimettere a te ogni ansia per noi stessi i nostri problemi i nostri momenti davvero di dubbio vogliamo rinunciare anche alle domande vogliamo accettare inspiegate le contraddizioni vogliamo riversare su di te le preoccupazioni sapendo che tu provvederai fino alla fine allora ci riderai la vita chiara e compiuta e scopriremo di avere portato una grande benedizione padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporra la tentazione ma liberaci dal male tuo è il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli amen sorella mia fratello mio nella fede e dell'incredulità fratello e sorella nella fede e nell'incredulità il Signore ti precede e ti accompagna ti terrà sempre per mano nella paura il Signore sarà il tuo conforto nella gioia Egli sarà la fonte del tuo sorriso nel dolore sarà Lui ad asciugarti le lacrime nei tuoi progetti ti indicherà sempre il cammino nelle tue notti il Signore sarà il tuo mattino la tua aurora che la pace e la grazia del Signore possano accompagnarti sempre Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dal pastore Gianni Jean e grazie 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 grazie